Vzologa! Allora, noto che in queste ore stanno uscendo parecchi trailer, quindi ci saranno un po' di reaction qui sul canale, con la solita analisi. Allora, mentre parlo è uscito da pochissimo il nuovo trailer di House of the Dragon, che uscirà in estate, però voi il video lo vedrete il giorno dopo, perché? Perché non voglio assecondare le bambinate delle case di produzione, del tipo Prime Video, che dice che la serie del Signore del Potere stagione 2 esce il 29 agosto, in diretta competizione con House of the Dragon, e allora giustamente HBO fa uscire il trailer poco dopo quello del Signore del Potere, io mi son detto faccio la reaction a House of the Dragon dopo, il giorno dopo, perché non c'ho voglia di affollare il canale di reaction, di prodotti anche simili, solo perché devono mettersi i bastoni tra le ruote, per cui lo sto registrando a trailer uscito da poco, ma voi vedrete questo video dopo diverse ore, giusto perché non mi va di far parte di quel tipo di dinamica. Comunque sia, sono curioso, perché comunque io attendo in realtà sia gli Anni del Potere che House of the Dragon, con entrambi seconde stagioni delle due rispettive serie, per cui sono sicuramente curioso di guardare anche questo trailer, per cui lo guardiamo e poi ne discutiamo. Allora, vediamo un po'. Daemon, ok. Ma è Jon Snow? No, non è Jon Snow. Ma qua ci sono le uova che bruciano, quindi. Sembrava Jon Snow. Ok. Eh, Rhaenyra, Rhaenyra. Sono cazzi. Grande re Aegon, simpaticissimo. Eh. Io sono stracurioso. Aegon, un re giusto e saggio, mi dicono. Tanto Eamond è sempre bellissimo, si può dire. Ok. Dai che si prepara la battaglia, Godo. Verdi contro neri. Ok. Sì, si prepara la battaglia, ma sono tutte scena i loro seduti che discutono. Ok. Ah. Guida abbastanza forte da un errore. Ok. Tu mi accetti, Daemon. Come una regina e sovrana. Eh. Siamo sicuri? Lo vedo un po' titubante, il signor Daemon. Beh, lui è fantastico. Comunque Matt Smith a me piace tantissimo. Alicent. No, non così. Alicent prova affetto per il venivo. Eh. Quindi abbiamo i due complementari. No, no, ok. Non era, era il figlio. Perché sembrava Joe Snow all'inizio. Pensavo fosse una sorta di flash for war. Ok. Beh. Esiste più di un modo per combattere una guerra. Eh. C'è il sotterfugio. Ho visto dei flash di sangue e formaggio. Che chi ha letto il libro lo sa. Stavano scappando assieme a un certo punto. Alice in Terenira. La guerra è imminente. Eh. Mamma mia, st'immagine. Comunque gli effetti sono buoni, eh. Mi piacciono. Eh, dai. Direi che, insomma, può essere interessante, no? Allora, trovo che sia un trailer molto interessante. Innanzitutto perché ci pone le due fazioni. L'una contro l'altra. I verdi, capitanati da Alice in Toto e Hightower. E i neri, capitanati invece da Rhaenyra e Daemon. Però ti fanno capire che ci sono dei dissidi interni. C'è Daemon che non sembra riconoscere Rhaenyra come sua legittima sovrana. Poi, se uno ha letto Fuoco e Sangue, che poi è solo una parte 1, dovrebbe uscire anche la parte 2, ma chissà quando uscirà. Scritto da Martin, che è un finto saggio storico, ehm, sa più o meno come va la storia tra Daemon e Rhaenyra. E, dall'altra parte, hai Alicent, che comunque prova affetto per Rhaenyra in quanto sono cresciuti assieme e non riesce a pensare di spazzarla via a cuor leggero e a contrastarla, è il figlio Aemond. Che è una cosa che mi piace tanto perché Daemon e Aemond sono molto complementari. Tant'è vero che i loro due nomi sono l'uno l'anagramma dell'altro. Per cui è anche fatto apposta. Nella serie la loro complementarità è nettamente più sottolineata che nel finto trattato storico. Poi prima ho letto romanzo, in realtà non è romanzo, è semplicemente un libro, non è un romanzo narrativo, è una cosa un po' diversa. Comunque sia, mi piace questa questione perché così possono esplorarla un po'. Non mi stupirebbe se aggiungessero delle cose che magari nella storia originale non ci sono. Io dei cambiamenti li gradirei anche, così almeno non arrivo a guardare la serie sapendo esattamente tutto quello che succederà. Mi piacerebbe avere qualche piccola sorpresa, devo essere sincero. Però credo che come trailer sia interessante perché c'è questo aspetto che mi piace, si vedono le conseguenze di ciò che ha fatto Aemond alla fine della stagione precedente, che è la cosa che mi interessa più vedere perché nel libro è una cosa molto cruenta. Sono curioso di vedere come sarà rappresentata qui nella serie e notare come è tutta una preparazione della battaglia e sono quasi tutte, come ho detto prima, scene di loro che parlano. Quindi mi aspetto che non ci sia chissà quanta azione, nonostante delle scene di battaglia le vediamo, ma secondo me saranno fugaci perché non so se arriveremo alla distruzione vera e propria già in questa stagione. Secondo me devono costruirla per arrivare poi a fare quello che devono fare perché comunque ci sono diverse battaglie che non credo che vedremo tutte in questa seconda stagione. Tre o quattro stagioni almeno le vediamo di questa serie. E quindi apprezzo innanzitutto questo. Mi piace tanto l'idea che ci sia molta preparazione, il fatto che vediamo i dissidi interni, il fatto che non sono tutti uniti come possono sembrare, ci sono anche dall'altra parte i Velaryon che comunque sono alleati, ma insomma le cose potrebbero andare in un certo modo. I draghi mi sembrano fatti molto meglio rispetto alla prima stagione che già comunque aveva degli effetti visivi interessanti. Mi sembra che da un punto di vista tecnico ed estetico abbiano migliorato tante cose perché il budget è aumentato, visto che la prima stagione di Oswald of the Dragon è stata la più vista dei prodotti dedicati al Trono di Spade. Cioè è stata ancora più vista dell'ultima stagione del Trono di Spade, di Game of Thrones, che già era stata vista con numeri da record. Quindi ci stanno puntando obiettivamente tantissimo. E soprattutto mi piace vedere come ci sia questa gravosità della guerra che sta arrivando. vediamo Aegon che non è palesemente adatto a fare il re e che pian piano lo vedi proprio, che è sovrastato da quello che sta accadendo. Per cui io sono curiosissimo. A me la stagione 1 è piaciuta da impazzire, lo sapete, l'ho amata sopra ogni cosa, quindi non posso non avere una grande curiosità per vedere questa. A me francamente spiace solo che la debbano mandare comunque più o meno in contemporanea con Gli Anelli del Potere. Anche se non proprio perché è dal 17 giugno. Quindi ci può stare la Sianaglia del 29 agosto, quindi in realtà più o meno questa finisce, il Sianaglia degli Anelli inizia. Però devono fare i competitivi, capito? Che non c'era neanche tutto questo gran bisogno. Perché comunque alla fine non credo che si accavaleranno più di tanto. Per cui, boh, non ho capito perché dover fare questa sorta di guerra intestina quando in realtà poi non è neanche del tutto così. Abbottando di trailer, mostrando che c'è questa guerra, le due serie fantasy, sono due serie fantasy completamente diverse l'una dall'altra. Io oltretutto me le godo tantissimo. Le prime due stagioni me le sono godute come poche cose e mi è piaciuta sia House of the Dragon che Gli Anelli del Potere. Quindi per me non ha neanche senso che si mettono in competizione, se posso essere sincero. Però capisco anche che funziona così. E inevitabilmente va fatto in questo modo, non lo so. Io avrei evitato. Ma fa niente. Comunque sia, è un trailer che mi è piaciuto. Se devo proprio paragonare le due cose, ho preferito forse quello degli Anelli del Potere. Però ripeto, sono due cose talmente diverse che in realtà anche questo comunque non mi è dispiaciuto e mi ha dato delle vibes molto interessanti. Il fatto che ti mostrino la guerra che sta arrivando, ma non ti mostrano la guerra in sé. fa forse più paura allo spettro della guerra che avanza lentamente. Quindi mi aspetto tanti tradimenti, tante Puglianate alla schiena, insomma. Non vedo l'ora di guardarla, ma voglio sapere da voi, vi è piaciuto questo trailer? Lo aspettate, l'aspettate questa seconda stagione? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi abbraccio, vi ringrazio. Grazie a tutti qui. e noi ci vediamo al prossimo bui vlog. Ciao a tutti.